A pochi giorni dalla promozione in Serie C Gold, due certezze per la scuola basketarezzo, il nuovo allenatore Massimiliano Milli presentato alla Balaestra e la conferma della collaborazione con Amen come main sponsor. Sono già state dunque poste le prime basi per provare a giocare un ruolo da protagonista anche nella quarta categoria nazionale. Il primo tassello ha riguardato proprio la definizione dell'allenatore con la scelta caricaduta su coach Milli, con importanti esperienze nelle prime squadre nei vivai. Mi aspetto da questa avventura sicuramente una stagione di crescita mia ma anche della società, una società ambiziosa, seria, che ha dei progetti di crescita e per un allenatore trovarsi in un contesto del genere credo sia il massimo da un punto di vista professionale perché è estremamente gratificante lavorare in un contesto dove si vuole crescere. Ieri ho fatto il primo allenamento, ho visto un po' di ragazzi sia del settore giovanile che della prima squadra, stiamo vedendo tanti video, tante partite, sto iniziando a prendere coscienza della realtà. La C-Gold rispetto alla C-Silver, come spesso accade, il livello è leggermente superiore. Ho visto già diverse squadre di questo campionato, del prossimo campionato sono squadre esperte, squadre intense, il livello anche tecnico-tattico degli allenatori è abbastanza alto, quindi non sarà per niente facile. L'obiettivo, come dice il Presidente, sicuramente non è quello di vincere il campionato, ma di consolidarci, di iniziare a stare con due piedi in questa categoria e crescere gradualmente. Come coach vengo dal settore giovanile, quindi ho avuto a livello professionale, ho visto tutto, dai piccolini del mini-basket fino ai professionisti della Serie A. Ho fatto l'assistente in A1, in A2, ho lavorato con le giovanili sia di medio livello, di altissimo livello, ho iniziato da zero con una società mia sportiva, quindi conosco un po' a 360 gradi sia il mondo dell'alto professionismo che il mondo del dilettantismo. Quindi sicuramente mi calerò nella realtà, cercherò di calarmi in questa realtà nel miglior modo possibile di essere utile alla società per poter crescere. La presentazione di Miglia è stata l'occasione anche per annunciare la rinnovata sinergia con Amen che nelle ultime stagioni è stata fondamentale per sostenere la crescita della pallacanestro a retina. Dopo un percorso fatto insieme che è durato qualche anno, quest'anno abbiamo raggiunto la Cicolte e quindi mi sembra quasi un atto dovuto, anche se è più un atto d'amore verso questa società e verso la città. Crediamo nel progetto che il presidente Mauro Castelli sta portando avanti, stiamo investendo, si sta investendo in strutture, si investe sui giovani e quindi spero ancora che questo sodalizio duri a lungo. Ti porti insomma anche bene, come ha portato? Deve portare bene, insomma il nome dice tutto, quindi questo campionato si è concluso con un Amen.